È un cittadino che ha dato lustro alla nostra patria. Con questa motivazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che concede al cantante piacentino Gianni Pettenati, noto in tutto il mondo per la canzone Bandiera Gialla che ha venduto oltre 10 milioni di copie, un vitalizio da 24 mila euro all'anno. La decisione del Presidente Mattarella che nel febbraio 2018 aveva ricevuto la richiesta dall'allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La relativa spesa, si legge nel documento, farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello Stato di previsione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Con Pettenati è stata applicata la legge numero 440 dell'8 agosto 1985 che riguarda l'istituzione di un assegno vitalizio a favore dei cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in stato di particolare necessità. Qui si è fatto riferimento alle condizioni di salute del cantante piacentino che solo nel 2019 ha dovuto saltare 36 serate, dunque si trova in una situazione di difficoltà a portare avanti la sua normale attività professionale. Era stato un consigliere regionale della Lombardia a lanciare per primo la proposta del vitalizio a Pettenati.